di questo campionato. Diciamo che hanno fatto una bella presentazione loro, chi meglio appunto dei protagonisti, di allenatori e dei tecnici a presentare questa sfida che è appena iniziata qui alla Simone Vitale. E allora via davvero al campionato, questo è l'ultimo match della prima giornata, Salerno recupera il primo pallone nonostante lo scatto fosse stato vinto da Amlados, ma poi il controllo è stato invece per Salerno che dunque opererà in attacco in questa prima formazione. Ne acquisto Valentino Gallo, il mancino con il pallone, uno degli esperti che è venuto a dare grande peso alla formazione salernitana, arriva dalla Ortigia di Siracusa, la palla a Esposito, ancora esterno per Parrilli, le sue finte, poi dà una buona palla al centro dove Zeno Bertoli, altro acquisto di peso, tra l'altro napoletano quindi un po' passato insomma in una squadra sempre campana, si è riavvicinato a casa Bertoli, guadagna la prima superiorità numerica con Valentino Gallo, Parrilli, poi la palla sull'esterno, ritorna Valentino Gallo, palla in acqua, quindi non buono il passaggio ma il braccio di Valentino è sempre un braccio pesante. E già vengono fuori quelli che sono gli elementi di spicco della campagna acquisti del Salerno, Bertoli che guadagna l'espulsione su due metri e la finalizzazione sull'assist di Barroso di Valentino Gallo, quindi ulteriori appunto acquisti estivi di un Salerno che è stato come diceva lo stesso Matteo Citro discretamente rivoluzionato e trova già buona compattezza in questa prima azione di superità numerica in gol per la squadra di casa. Opposto il discorso per Trieste che ha confermato in blocco la rosa dell'anno scorso aggiungendogli Beppe Valentino, altro giocatore di scuola napoletana e poi il secondo portiere Chiara, vediamo questa premazione con il gol di Mezzaroba da fuori, ha fulminato Gabriele Vassallo, il neoportiere della formazione di Salerno, anche lui uno dei cinque acquisti arriva ad Anzi. I giovani giocatori dello scorso anno, tra cui Mezzaroba e uno di questi che hanno fatto un signor campionato, adesso devono non solo confermarsi ma mettere quel qualcosa in più e lo fa proprio Mezzaroba subito nel dare il pareggio con questa bella conclusione, chi trova il braccio del difensore dove Vassallo non può assolutamente arrivare, gol anche un peso specifico perché viene effettuato in parità numerica. E' andato Bini in fase di marcatura, allora se lo porta fuori Michele Luongo va dentro ma commette fallo in ingresso esposito, è andato proprio addosso al difensore, un fallo di sfondamento, attenzione al contropiede con Mladocic, uno contro zero, fa tutto a dovere, avete visto la conclusione ha rischiato un pochino, angolando fin troppo però il controllo e poi soprattutto girarsi con la testa a vedere che vantaggio ha rispetto al difensore, eccolo qui il movimento e poi il gol. Blocca leggermente il polso e la conclusione poi accelera, non è da fare per Vassallo in questa conclusione a tu per tu, seppur il portiere proprio salernitano è molto bravo da distanza ravvicinata, ma qui è a monte l'errore della formazione di salernitano, ovvero il fallo in attacco su un entrato verticale che porta subito in uno contro zero Mladocic. C'è Milastomacic al centro per Salerno, calottina numero 7, Zeno Bertoli in fase di regia invece si è messo in marcatura lo scambio con Gallo, poi dall'altra parte per Luongo, la parata di Oliva, molto attento sul suo palo, oltronde c'era poco angolo per Luongo, veterano capitano di Salerno, Bertoli sulla zona M operata da Daniele Bettini, gli esterni vedete hanno spazio, Bertoli in particolare, poi la palla che va a Barroso, che era carico di gambe, chiamava questo pallone con labiale al suo compagno, che l'aveva visto perfettamente, ottima l'organizzazione dell'attacco line. Ha una caratteristica davvero incredibile Barroso, ed è l'accelerazione, la fa vedere adesso come viene ad assorbire, un passaggio anche morbido, non così veloce del compagno, ma lui è bravo di andare incontro e subito liberarsi della sfera, prendendo sul tempo l'incolpevole Oliva. Barroso, spagnolo, quest'anno lo abbiamo incontrato spesso, tra l'altro è stato inserito nella Nazionale, è rientrato nel gruppo stabilmente della Nazionale, la Nazionale che ha vinto la medaglia ai campionati europei, intanto palla al centro, c'è l'ottima uscita sul tempo di Vassallo, aiutato dai compagni, recupera la palla Salerno, siamo 2-2, partita molto vivace alla Simone Vitale di Salerno, questa prima di campionato per la Rarinante Salerno, che ospita Pallanuoto Trieste. L'anno scorso davvero la mina vagante del campionato, qui Tomasic si gira, ma è scavalcamento, fischiato dall'arbitro Stefano Scappini, giustamente trattenuto il difensore per girargli praticamente sopra poi, fischiato il fallo, Giacomo Bini, Fiorentino di Bagno Ripoli, la seconda stagione, palla dentro, guadagna la prima espulsione di questo campionato anche Trieste, la palla è a Bini, spara la bomba subito, senza neanche andare a posizionarsi in 4-2, gli attaccanti di Bettini scelgono la soluzione veloce, la qualità di Inaba, il giapponese che capisce subito, ha nello spazio di poter attaccare e servire un pallone perfetto al centro, Bego che prende l'espulsione, e poi lo stesso Inaba a venire incontro al pallone e dare subito la sfera guardando il vantaggio di Bini, sulle due metri, che tira prendendo in controtempo Vassallo, che copre l'angolo corto, invece la diagonale è vincente, torna in vantaggio Trieste. Partita molto aperta, con gli attacchi molto precisi, perché un solo tiro è stato parato, quello di Luongo, gli altri sono tutti andati in fondo al sacco, 3-2 dunque per Trieste, fatto bene a segnalare la presenza sempre importante e precisa di Inaba, calottina scura numero 10, giocatore sempre da seguire con grande attenzione, per le sue doti straordinario nuotatore e pallannutista. L'attacco di Salerno, il dialogo è bene sugli esterni, Barroso in posizione centrale, zona M con l'attacco, si muovono da due parti per creare un diversivo, che però non ottiene il risultato evoluto, con una conclusione provata da Siani, ancora una volta molto decentrato, lì va attentissimo ancora una volta su quel palo, recupera la palla Trieste, Ray Petroni, il capitano porta avanti i suoi 38 anni, la palla è lunga, la piscina di Salerno è un po' più stretta di altre vasche, forse anche questo incide, contropiede di Salerno, con Barroso, ha visto che ha lo spazio per andare avanti, chiuso molto bene da Inaba, poi la palla però, data allo centro, a Esposito, che ha scalato male la difesa di Trieste, ha lasciato libero il giocatore più pericoloso, centrale davanti alla porta, gol, era andata quasi a chiudere Trieste, nel momento in cui, però qui è Petronio che va per andare verso Barroso, non vedendo che invece era già arrivato su di lui Bini, e quindi lascia il tempo a Esposito, che è a rimorchio, arriva, giustamente si ferma, perché diversamente, si è andato addosso, lui in bocca al difensore, quindi arresta la sua nuotata, riceve e realizza il pareggio, partita, come dicevi tu, non solo vivace, ma direi anche ricca di spunti tecnici, in questi primi otto minuti. Ray Petronio, poi la palla sull'esterno, mezza roba che prova la colomba, ben giocata, ma scusate, la palla che va di Inaba, va a cocciare sulla traversa, non riesce a ottenere il risultato voluto, 3 a 3, quando siamo oltre il giro di Boa del primo tempo, c'è Bini in marcatura di Luongo, senza pallo, è un pressing, qua su Valentino Gallo invece Andrea Razzi, affonda il fallo e l'Opesca, attenzione al movimento di apertura, ottimo, da parte di Esposito, che qua procura il gol al compagno, apre una autostrada per Gian Maria Siani, che quasi in credulo avanza e trafigge sul primo palo, Oriva. Emano, come correttamente evidenzavi tu, la differenza la fa dalla posizione 1, l'entrata di Esposito, e anche Inaba che ha seguito, lì nella zona M non bisogna muoversi, nelle posizioni non bisogna muovere le pedine, che disegnano proprio la linea, diciamo che unita, disegna la lettera M, bisogna soltanto accompagnare, bisogna scalare, e poi ritornare, nell'entrata, e poi ritornare invece, seguendo Inaba, lascia come dicevi tu, una vera e propria autostrada, a Siani, che ringrazia, e in due gol consecutivi, per Salerno, per il vantaggio dei padroni di casa. Esposito e Siani, Siani adesso è in marcatura, un altro ritorno a Salerno, quello di Siani, cresciuto a Salerno, poi ha girato un po', arriva D'Anzio, controfallo, al centro, il fallo è di Bego, e quindi palla recuperata da, Raninante Salerno, con il suo capitano, Michele Luongo, di 35 anni, nato a Genova, ma ormai salernitano, più di, ben più di adozione, Siani prova un movimento, adesso Luongo, ha spazio, lui è un ottimo tiratore, qua si salva in qualche modo, Oliva tocca, la palla va sul palo, e poi la recupera. Sì, la parata determinante, la andiamo a rivedere, eccola qui, con l'avambraccio, sì, il tiro più centrale di quello che mi sembrava a prima vista, però il determinante sarebbe finito in porta, e ora Trieste, che prova ad allungarsi con Razzi, che tante finte concesse, poi un tiro centrale, con Vassallo, che si esalta. Allora, sono partite, davvero, ha sprombattuto, queste due squadre, non credo che potranno reggere questo ritmo, l'intensità incredibile, fino alla fine, prima di campionato, da poco abbiamo, poco superato i sei minuti di gioco, sei minuti e quindici, ne manca uno e quarantacinque al termine. Lo dico anche perché, il tiro di Razzi, è il classico della fatica, anche perché, tante finte, poi tiro centralissimo, attenzione, lo chiamano al tiro, i compagni, era Carlos Sánchez, perché era libero, in posizione 4, quindi ottima per un tiratore, Oliva si rifugia in tiro d'angolo, e Salerno, altri 20 preziosissimi secondi di possesso, a 1,34 dalla fine del primo tempo. Movimento 1-2, tra Siani e Gallo, che va a prendere posizione più centrale, eccolo qua, il mancino subito servito, può cercare la palla al centro, va sull'esterno dove c'è Gallozzi, poi lungo, M ancora per Bettini, ancora l'attraversamento da 1 verso 5, però questa volta, eccola qua, subito le indicazioni di Bettini, avete visto come Bego, accompagna leggermente, poi lascia il giocatore che stava entrando, e viene ovviamente in posizione 1, e recupera lui stesso il pallone. Eh sì, è chiuso la strada questa volta, passaggio a livello, chiuso, Trieste prova davanti con Mladocic, che va a spingersi, una situazione un po' pericolosa, non viene premiato dagli arbitri, chiedeva qualcosa. Perché Gallozzi fa un ottimo movimento, con il braccio sinistro, va a toccare il pallone, ora c'è un piccolo vantaggio, un 4 contro 3, vediamo se Gallo va a concludere realità. Eh sì, qua, molto bravo Luongo, che fino all'ultimo ha tenuto la palla in mano, ci ha fatto attaccare, poi ha scaricato a Gallo, il suo braccio non perdona, come sempre, e gol del 5 a 3 Salerno, Valentino Gallo, eccolo qua, Luongo, Gallo sdraiato, ma lì conta solo buttare la palla dentro. C'era anche la possibilità del passaggio al centro, era lì pronto Maione a poter prendersi la sfera, ma un giocatore esperto come Valentino Gallo, che si è rimesso nuovamente in discussione, andando e tornando in campagna, dopo davvero tante stagioni della Gallottina Rossorelli e del Posillipo, e dopo essere tornato a casa, a Siracusa. Beh, parliamo sempre di un bi-medagliato olimpico, il campione del mondo, ma sempre un mancino di altissimo livello. Partita molto bella, vibrante, più 2 Salerno, ultimo attacco per il primo tempo, per la formazione ospite, nel dialogo esterno c'è l'espulsione, al centro, con la superiorità numerica, la seconda per la squadra ospite, che senza mancino prova la soluzione sul primo palo, ma c'erano ben due difensori addosso a Podgornic. Ed è ancora una volta un ottimo intervento di Gallozzi, che da diagonale difensivo, il tiro questo di Barroso alla chiusura, della prima e divertente frazione di gioco, come diagonale difensivo, sale sul giocatore sul palo e va sul braccio, quindi era abbondantemente in anticipo, qui Buleabasic, è nato un po' a memoria in questa soluzione numerica, non avendo appunto letto l'anticipo del centrale salernitano, ed è un primo tempo che si chiude con un vantaggio di due reti, quindi primo break della gara per Salerno. Sì, il break Esposito, Siani e Gallo, che hanno ribaltato lo score da 3 a 2 Trieste, fino appunto al vantaggio doppio per Salerno, primo tempo a 150 all'ora, davvero, adesso le squadre sono negli angoli, intanto con le grafiche, leggiamo anche le formazioni, ne abbiamo già anticipato di fatto le grandi novità, da una parte quella di Salerno, un po' meno dall'altra, dove Trieste ha confermato tutto il suo roster con l'ingresso di Giuseppe Valentino, la calottina numero 6 di Francesco Ghiara, il secondo portiere che arriva da De Hacker a Bologna, neopromossa in Serie A. Con Citro adesso che sta dando la carica a sua, le vedete sulla sinistra, Bettini invece a destra con il gruppo delle calottine scure, che contraddistinguono come sempre la squadra ospite, partita davvero molto godibile, con questo 1 su 1 in superiorità numerica da una parte, 1 su 2 invece per Trieste, che abbiamo visto, ha avuto l'ultima occasione, il primo tempo per trovare un gol, per accorciare il distacco, Trieste probabilmente un po' sorpresa da Salerno, che non è nuova però, ha imprese nella sua vasca, il pubblico di casa si fa sempre sentire, vasca un po' più piccola, compatta, pubblico a ridosso, Trieste è molto più rodata, lo dicevamo anche con Bettini, ha giocato già sette partite, ha giocato la Coppa Italia, si è qualificata per il turno successivo, mentre Salerno no, perché nel girone di Napoli, solo per differenza reti con il Fosillipo, è rimasta esclusa, pareggio con il Fosillipo, e poi ha fatto la differenza, la differenza reti, scusate il gioco di parole, contro Brescia. qui Daniele Bettini, con Alessandro Maizan, dietro c'è Andrea Abrazzati, tutto lo staff tecnico e societario della formazione di Trieste, che diceva un po' sorpresa, ma ci può stare, perché Salerno in casa è sempre un osso duro, partita molto lunga questa, perché, questo va anche detto, alla vigilia, potevamo dare un piccolo vantaggio a Trieste, sicuramente, in base all'ultimo campionato, qui è arrivata in quarta posizione, terza in regola al season, ricorderete in semifinale, ha dato il filo da torcere, ma tanto, è quasi in finale, a Brescia, e quindi, insomma, è una squadra che ha sicuramente un valore tecnico più alto, però qui a Salerno può succedere di tutto, come sempre, per fortuna stiamo vedendo una bellissima partita, iniziato il secondo tempo di gioco, con la palla in mano a Trieste, mezza roba, sul movimento di entrata, c'è un fallo offensivo, lo commette, si ha, Verlic, e quindi, palla recuperata, da Gabriele Vassallo, il 29enne però, attenzione, questa è palla sotto, il passaggio rischiato, palla sotto, palla recuperata, mezza roba batte, e se ne può andare a concludere, attenzione, perché il fallo è venuto fuori dai 6 metri, mezza roba difende molto bene, la posizione della palla, con il corpo, e quando c'è l'intervento, è un intervento da penalty solare, è stato bravissimo qui, mezza roba, si è nella lettura, nel passaggio morbido di Vassallo, e questo invece, è il rigore, va a certificare proprio il vantaggio, e subisce la pressione di esposito, rigore, corretto, fischiato da Scappini, e ora, dai 5 metri, è il giapponese, Inaba, Inaba per il rigore, conclusione, all'imbalzo fortissima, 5-4 in apertura, dunque, di secondo tempo, nel tabellino marcatori, anche, Inaba, il miglior under 20 del mondo, di due stagioni fa, Com'è importante, quando c'è il passaggio, ovviamente, quando riparte l'azione, la squadra che difende, deve sempre avere la percezione del pallone, questo lo si insegna, sin dalle giovanili, sempre sapere dove è il pallone, perché, come ha fatto adesso Mezzarobba, ci può essere quel colpo di gambe, quell'inversione, ovviamente anche della direzione, per andarselo a prendere, e magari andare subito a capitalizzare, come ha fatto Trieste, questa, a inizio di gara, e ora recupera un altro buon pallone, un passaggio, così è così, abbastanza, ingiocabile di Barroso, per il compagno Tomasic, che fa l'alta, mezza altezza, il difensore lì ha buon gioco, recupera il pallone Salerno, eh, Trieste, lo fa con Bulibasic, ancora un po' fuori dal gioco, il croato, lui è campione olimpico, riceve ora ancora il pallone, poi palla a Inaba, Razzi, Bulibasic, il croato, lascia andare il suo braccio, destro, e pesca il palo, un palo esterno, dalla distanza, senza, qui essere molto pericolosa, Trieste, recupera la palla, Gabriele, Bassallo, attenzione adesso ai passaggi, infatti, lo gioca molto dietro, tranquillo, bagnato, in acqua, fa la data a Esposite, al centro, Tomasic, aspetta rifornimenti dei compagni, ma c'è la zona M, da parte di Bettini, quindi Trieste, che si mette a saltare, sugli esterni, scaricano, fanno tutto il giro, ancora una volta, meccanismo difensivo, che non ha funzionato perfettamente, perché scalavano sempre, con un tempo di gioco in ritardo, e soprattutto è saltato, dalla prima, in seconda linea, lasciando, la conclusione, di Parrilli, che prende il palo interno, anche una legge di viazione di Oliva, errore da, matita rossa o blu, forse più rossa che blu, dai, palla che arriva dall'altra parte, ai due metri, e c'è il gol di Podgornik, che difende molto bene la posizione, ammette la sua colpa, Gabriele Vassallo, perché il tiro, gli è passato sopra la testa, ed era dunque, ampiamente, nelle sue possibilità, la parata, cinque pari, rivediamo, parlavamo della linea giovane, nel primo tempo, e anche qui, Podgornik, un giocatore fatto in casa, a Trieste, anni fa, 23 anni, quando c'era, un gioco da Piccardo, sì, che va a, legge, che non c'era appunto, il giocatore, sui due metri, nel centro di ruolo, si butta, e poi riesce a staccarsi, a tirare, sì, è vero anche, come del resto, Vassallo ha ammesso, il suo piccolo passaggio a vuoto, un tiro, insidioso, ma non irresistibile, no, diciamo che avrebbe potuto pararlo, Vassallo, ha ammesso immediatamente la sua colpa, vediamo intanto Salerno, comunque, poco male, 5 pari, ha perso il doppio vantaggio, c'è la zona M, tanti movimenti, riescono a infilare la palla in centro, e non c'era tanto spazio, per darla a Tomasic, che ha guadagnato l'espulsione, fermato subito Barroso, vediamo questo uomo in più di Salerno, è la seconda opportunità, Barroso, luongo, le sue finte, riapre dall'altra parte a Gallo, che scarica, per Bertoli, sull'altro palo, la palla è toccata, molto bene, dal difensore, da Giacomo Bini, che ha letto perfettamente, se non ci fosse stato quel tocco, segnava a porta vuoto. Come prima abbiamo evidenziato, l'ottimo movimento di Gallozzi, come centrale difensivo, qui, dall'altra parte, sempre come centrale difensivo, l'ottimo movimento, di Bini, e qui invece una palla affrettata, di Mezzaroba, nel traffico, intendeva servire Bego, ma sia Vassallo, che Esposito, lo hanno chiuso poi in una morsa. Vassallo ha dato a fare fallo Esposito, pensando che fosse ancora giocatore avversario, invece avevano già recuperato il pallone, ma lo perde Salerno, attenzione a perdere palloni così, con Tomasic che resta indietro, è un contropiede, Inaba ovviamente non si fa pregare, sempre carico di gambe, questo è il segreto di questo ragazzo, che riceve e spara sul primo palo, e il gol del vantaggio di Trieste, tre gol di fila. È un piacere vederlo nuotare, guardate come è stato lì pronto, andarsi a prendere, a chiamare il pallone, e passare dalla posizione orizzontale, a quella verticale, per poi liberare la conclusione, nell'angolo corto, di Tiro, abbastanza ravvicinato, e un parziale di 3-0, in questo inizio, di seconda frazione di gioco, o meglio inizio mica tanto, siamo quasi alla metà. Vedi come va questo gioco, Salerno era avanti di due, un passaggio sbagliato, un contropiede, un'altra palla persa, e la partita cambia, si inverte, adesso Salerno deve fare molta attenzione a Trieste, palla a Valentino Gallo, giocano a pressing nell'inizio, poi passano e si chiudono a zona, quelli di Trieste, quando mancano 10 secondi, ma con la palla lontana, c'è l'esposizione al centro, di Bulibasic, guadagnata da Zeno Bertoli, che sta dando un buon peso, lì davanti, ai due metri per Salerno. Siani, Gallo che si è accentrato, giocano molto bene, qua, con il passaggio illuminante, di Barroso, ma la conclusione di Esposito, viene parata da Oliva, vediamo, e si con il fianco, davvero esulta, sì, ho visto anche in diretta, non è caduto nell'angolo corto, ed è riuscito, a impedire il gol, questo non capita spesso, la parata col fianco, perché è una ottima costruzione, della stupità numerica, la musione di Podgornik, molto defilato, non trova, diciamo, buona sorte, e ora riparte, con ancora un buon ritmo, direi, Ettore, in questo secondo tempo, abbiamo girato, la boa, della metà, della seconda franzione. Diciamo che adesso, inizierebbe, insomma, avvertirsi un po' di più la fatica, nel terzo, poi, ancora di più, vediamo, Esposito, con calma, Salerno, Valentino Gallo, guarda il gioco, poi vada Barroso, che è stato preso per questo, per le sue capacità di tiro balistica, e ovviamente, prova a forzare un po', da sdraiato, la palla va alta, perché vede che, non ha buon gioco Bertoli, era stato ben chiuso da Bini, quindi, va a fare un'entrata, per cercare di staccarsi con Beko, che non ha grandissime capacità difensive, però non inquadra lo specchio della porta. Ray Petronio, ancora la palla, Petronio, il capitano, va a segnare un gol pesantissimo, perché è quello del più due, sette a cinque, rivediamo, conclusione sul primo palo, c'è un movimento a spostarsi al centro del portiere, lui ne approfitta subito, lo prende un po' in contrattempo. Anche l'angolo corto abbastanza sguarnito, era un po' fuori posizione Gallozzi, non trova, ovviamente, qui, quella copertura Salerno, con Ray Petronio, che ha un'ottima finalizzazione, è stato anche, Salerno per un anno, il miglior marcatore del campionato, anni addietro, quindi, a dimostrazione, appunto, delle sue qualità offensive. Quattro gol di fila di Trieste, iniziato il tempo sotto cinque a tre, adesso è avanti sette a cinque, inizio a pressing, guardate, le calottine blu, che poi retrocedono, come un solo uomo, a chiudersi, si arroccano davanti al centro boa, in una zona che spesso è M, ma adesso non lo è, ora sì, ci sono parlati i difensori, intanto Valentino Gallo va a prendersi il tiro, letto molto bene, in fase difensiva da Verlice, che ha chiuso, ha deviato questo pallone, l'ha tolto dalla porta, il pallo lì va aperto il gioco, dunque, a Ray Petronio, provano a affondare il contropiede, che poi però è chiuso, allora è giusto ragionare, Petronio ha 15 secondi di tempo, dà una palla al centro, dove ha commesso fallo, Verlice, il 26enne croato, di Rieca, commette fallo in attacco, e si continua a nuotare tanto, Valentino Gallo con il pallone, ecco il Siracusano, nella sua prima stagione a Salerno, la palla va dall'altra parte, ora a Barroso, c'è chiusura di zona M, ancora l'attraversamento da uno, non lo seguono più, avete visto il raddoppio, è andato a chiuderlo immediatamente, sono passati a uomo, Oliva, ha un buon recupero, perché se la palla toccava la corsia, sarebbe stato due metri, e c'è l'espulsione, e time out, nella ripartenza, l'espulsione di Bertoli, di Barroso. Barroso che aveva concluso, e ha subito legato, l'avversario che poteva partire con una controfuga, sarebbe stato un tre contro due, gli spende il suo fallo grave, e Bettini decide che è arrivato il momento, di chiamare il primo, dei due time out, che ha a disposizione, spesso se li conservano, qua è sempre la fine, e spesso non li consumano mai tutti, allora lui ha detto, ma sì, condivido la scelta, vissia perché l'espulsione è arrivata, in fase difensiva, intanto stiamo rivedendo, qui i gol, questo è il rigore, di Mezzarobba, segnato appunto da Inaba, per appunto, giocarsi la possibilità, adesso Bettini, di andare, su un ipotetico più tre, 15 secondi, può la squadra entrare, nella metà basca offensiva, con Oliva, che dopo che l'arbitro, scodellerà il pallone, tra le sue mani, potrà riprendere il gioco, Oliva, portiere, Mancino, lo vedete, impugna la palla con la sinistra, Bini, altro Mancino, poi Mezzarobba, gli avanzamenti, poi la palla è a Mladocic, Inaba, c'è un giro interno, da parte della formazione, di Trieste, per Beppe Valentino, che va alla conclusione, usciva dal palo, è andato a picchiare la palla, sulla traversa, poi Inaba, recupera, alla fine, quando lascia andare il braccio, dopo quelle finte, è letale, il giapponese, che va a segnare il gol, del 8 a 5 Trieste. Dopo la conclusione di Valentino, ha cercato Tomasic, di prendersi questo pallone, salendo molto in alto, però involontariamente, riserve un pallone, riserva un pallone a Inaba, che vedete come scivola sulla sinistra, per impedire all'avversario di avere spazio, e quindi avere maggiore spazio, lui in attacco, e poi la sua conclusione, triplet per Inaba, tutti e tre i gol, proprio in questa seconda frazione. Eh sì, ha dato quella accelerazione, di cui lui è capace. E soprattutto, cinque gol di fila, 5 a 0 di parziale. Guadagna un'altra espulsione, intanto Salerno, Valentino Gallo, la presa Tomasic, la valentia da Tomasic, Valentino Gallo, poi la palla che va a Barroso, lo spagnolo apre a Parrilli, ancora Gallo, che va, ha fatto messo in zona da conclusione, più centrale, però questa volta ancora buona lettura, da parte della difesa, con Podgornic, che sporca la traiettoria, la recupera Paolo Liva, mentre Bini dice, aspettiamo, palla sotto la scena, mancano 8 secondi. E qui l'esperienza di Giacomo Bini, giustamente non andare a trovare, Idem anche qua, probabilmente Trieste terrà la palla, e ti manterrà l'eventuale superiorità numerica, per il prossimo tempo, perché aveva guadagnato una superiorità numerica, proprio allo scadere, si chiude comunque il secondo tempo di gioco, 5 a 0 di parziale, in trasferta, non capita spesso di vederlo, inquadrato Luca Castagnola, che se non Stefano Scappini dirige questo match, riformalmente della sezione di Roma, ma è Recchelino, lo sappiamo tutti, e questo è Scappini. 5 a 0. Direi che è un secondo tempo, nel quale, a prescindere al di là dell'aspetto realizzativo, Trieste è stata una squadra molto cinica, che ha saputo sfruttare tutti gli errori, voi in fase di costruzione, o magari anche di inversione del possesso, delle entrate, un po' talvolta, che hanno creato dei cavolgimenti di fronte, che Trieste però è stata brava, nello sfruttarle, e soprattutto ha trovato una grande compattezza difensiva, dopo qualche svarione, anche sulla zona M, che abbiamo commentato nel primo tempo, e qui, le due cose unite, creano il vantaggio, ovviamente di tre gol, 8 a 5, nel computo finale, ma soprattutto il parziale, di 5 a 0, perentorio, proprio a dire, ci siamo anche noi, primo tempo, abbiamo, certamente, subito, qualcosa, ma, ecco, forti, i Giuliani di, aver fatto tante partite, anche in campo internazionale, quindi essere, maggiormente rodati, quel pizzico in più, rispetto ai Salernitani, che magari non hanno avuto il turno di Coppa Europea, e quindi, questo probabilmente, può fare la differenza, visto che siamo all'inizio del campionato. Sì, giustamente, ricordavi, dell'esordio storico, in Coppa per Trieste, tra l'altro festeggiato, con la qualificazione, alla fase successiva, ha battuto il Mediterranei, 9 a 6, ha perso con la Stella Rossa, 11 a 9, una partita difficile, ovviamente, contro uno squadrone, come quello serbo, la vittoria anche con l'Apollon, per 13 a 8, poi largo sul Cosice, per 29 a 10, ha chiuso con la sconfitta, contro il Vasutas, 10 a 7, nel raggruppamento, che si è giocato, a inizio di ottobre, a fine di ottobre, Trieste sarà Sabac, per il secondo turno eliminatorio, in un girone non facile, con lo Jadran, Solaris, Paisdex, e la formazione di casa, a contendersi, i due posti, per proseguire il cammino, in Europa Cup, la seconda Coppa, sono quattro squadre italiane, in Europa Cup, che lottano per, proseguire, per gli ottavi di finale, Savona, Ortigia, e Telimar, oltre, alla formazione giuliana, mentre, Brescia e Recco, Brescia deve ancora, superare un avversario, non facile come il Vasas, per entrare, nella fase a gironi, della Coppa dei Campioni, Champions League, di cui Recco invece, ha la wild card, sempre, quindi, tra l'altro è campione in carico, Recco, ha iniziato vincendo, agilmente, anche il match di oggi, contro la nuoto Catania, per 16 a 3, Savona ha battuto, The Hacker 14 a 8, vittoria del Brescia, Napoli, contro il Posillipo, 11 a 3, e poi, Telimar, 12 a 9, contro Lanzio, altri aggiornamenti, li trovate su, federnuoto.it, come sempre, in tempo reale, qua, noi ci rituffiamo, nel terzo tempo, di questa partita, tempo della verità, Salerno, recupera nettamente, questo pallone, lo fa con Barroso, e quindi, può rientrare, il giocatore espulso, quindi, una stupenda numerica, guadagnata, la fine del secondo tempo, che Trieste, non gioca. No, annullata, così, dallo scatto di Barroso, che dà un ottimo contributo, in questo caso, difensivo alla sua squadra, recupera il pallone, e Salerno. Giocavamo un terzo tempo, molto importante, perché Salerno, deve assolutamente, far vedere, che è ancora viva. Palla che cade al centro, chiamati i cinque secondi, ma la palla, non è giocabile, per Zeno Bertoli, lontano dal, centro boa, il napoletano, che arriva, proprio dal Recco, dove ha vinto tutto, nella passata stagione, campione di tutto, campionato, Coppa Italia, Coppa dei Campioni, attenzione, la controfuga, con il gol, di Razzi, che riesce a passare, dove sembrava impossibile, passare, sembrava quasi palla sotto, anche, perché il portiere, è uscito sul tempo, ora andremo a vedere, la palla, gli arriva bene, davanti, esce il portiere, per un attimo, siamo lì, quasi sotto il pelo dell'acqua, anche lui, guarda l'arbitro, diciamo che, è molto dubbio, certamente apprezzabile, il gesto, di Razzi, che, vede l'uscita, e quindi, sposta il pallone, però, la palla, non, per un, un pelo, e per un po', diciamo così, è sembrata sparire, sì, quindi il dubbio rimane, se l'ha messa sotto, per impedire al portiere, di prendere, sarebbe un fallo, ovviamente, zona M, di Trieste, adesso avanti, 9 a 5, la conclusione di Luongo, non passa, poi attenzione, ci sono un po', di trattenute con Bini, ma alla fine Luongo, impedisce al difensore, di prendere vantaggio, Bini chiama il pallone, i due mancini, dialogano, della formazione di Trieste, Bini porta avanti il pallone, mezza Roma è andata in posizione 1, Razzi che si apre, sul movimento di entrata, c'è la trattenuta su Inaba, 1-2 velocissimo, e gol, stupendo di Inaba, davvero, la palla a nuoto moderna, perfettamente rappresentata, da questo giocatore, che ha un fisico, tra l'altro, ridotto. Sottoscrivo, senza centro boa, i Giuliani, l'entrata, il verticale, con la trattenuta al braccio, di Valentino Gallo, e dopo aver guardato, l'espulsione, subito propositivo, di andarsi a prendere il pallone, già con le gambe, in assetto, per poter ricevere, e tirare in porta, davvero, bellissimo, questo suo verticale, che non lascia scampo, ad un giocatore, esperto, come Valentino Gallo, che guadagna, il fallo grave, il primo, della sua gara, subisce, ovviamente, 10 a 5, quindi doppiati adesso, i padroni di casa, dagli ospiti, con questo bellissimo, gol di Naba, sempre, noi lo diciamo, vale il prezzo del biglietto, sempre, vale sempre la pena, seguirlo, perché è un giocatore, che regala, bellissima pallanota, si sono chiusi, ancora una volta, M, i ragazzi di Bettini, Salerno, prova ad attaccarla, però, con circolazione di palla, che è molto poco pericolosa, passaggio poi, molto parabolato, per Barroso, che va al tiro, chiuso, da tante braccia, l'ultima, anche quella del portiere, di Trieste Oliva, che recupera ancora il pallone, va a aprire su, mezza roba, Buli Basic, c'è un po' di spazio, il croato, va al tiro, tiro parato, bene, da Gabriele Vassallo, guardate poi la ripartenza, Luca Castagnola, fischia l'espulsione, a favore di Salerno, è time out di Citro, qua, con Verlic, che è incredulo, non si capacita di questa espulsione subita, poi magari avremo modo anche di rivederla, lì trattenute, spinte, il giocatore di Salerno però, sembrava voler andare avanti, e Bego non aveva forse, e Verlic non aveva tutte e due le mani sotto, Tiro, vediamo, tra l'altro è Gian Maria Siani, che prova a passare, c'è il gomito, diciamo, piegato, a 90 gradi, di, grazie alla regia, esatto, la regia intanto, precisissima, complimenti, per averci dato, la possibilità, poter, parlare, dell'episodio, il gomito, diciamo, a 90 gradi, con il braccio, all'interno, del giocatore sanitario, di Tomasic, questo, ha dato appunto, in là, all'espulsione, data, e quindi concessa, da Luca Costagliola, con Bego, che forse, l'ha trattenuta, con un grande mestiere, l'ha fatta. L'ha trattenuta, eh, sì. Si è chiamato il suo time out, Citro, giustamente, direi qua, esattamente come ha fatto Bettini, poco fa, a Reggio Conti, riordinare l'idea, porta di là, la squadra, senza il trasferimento, e poi la squadra che ha bisogno, un attimo, di confortarsi, in un secondo, dopo, un parziale di 7 a 0, subito. Valentino Gallo per Barroso, ancora lo scabaletto tutto, indovinate chi? Lui, Inaba, piccoletto, colpo di gambe, la sforbiciata, va a interrompere quel passaggio, letto con grande anticipo, poi apre lui il contropiede, mezza roba, arriva Podgornica, rimorchio, palla aperta per lui, attenzione se lo toccano rigore, molto bene, in fase difensiva, Zeno Bertoli, che proprio ha evitato il contatto, e l'ha lasciato tirare, a un mezzo metro dalla porta, col portiere che chiudeva, ottima azione offensiva, ma anche difensiva, qui. Salerno, però, deve sempre difendere, Pallainaba, esplosivo, veloce, furbo, davvero, a tutto, del grande pallanotista, questo ragazzo, che va a segnare, il gol dell'11 a 5. chiamava il pallone, già un paio di secondi prima, lo rivediamo a Razzi, e non ci pensa su, e sì, anche, l'esplosività, di cui parlavamo al primo tempo, al secondo tempo, davvero incredibile, una fiondata, che, non lascia assolutamente scampo, e ora, sono, tanti i gol, 5 del, 5, secondo tempo, e adesso, 3 in apertura, 5 anche personali, quindi Manica, certamente di Naba, parlava appunto, dei gol consecutivi, che sono 8, iniziano ad essere, tanti, forse anche, troppi, per, Salerno, che ora, si, intestardisce con Barroso, che aveva guadagnato l'espulsione, e prova l'alzo e tiro, si, poi se ti metti anche a forzare, che è il che entra in acqua, si, devi rimanere con la testa, nella partita, e questo ovviamente, non era il modo migliore per farlo, Barroso forza il tiro, Salerno perde un uomo in più, che era molto importante, ritorna Petronio, abbiamo 10 secondi, ancora di possesso, andrà al tiro lui, infatti Petronio, va sulla traversa, e Salerno recupera il pallone, siamo a metà del terzo tempo di gioco, con Trieste, che è rientrata in maniera perentoria, quasi spietata, con l'uninaba suntuoso, si è portata dal 5-3 Salerno, all'11-5, in due tempi, si chiude ancora zona M, Zeno Bertoli, palla esterna per Siani, un passaggio che non è, ne uno ne un altro, dei suoi compagni, poi una palla che cade ancora dentro, però finisce il tempo di possesso, ha provato Salvatore Maione, 17, settenne, darà una mano davanti, e chi c'è dall'altra parte, già, Inaba, che si ferma, e va al tiro, dalla distanza, si ferma, a due metri e mezzo, dalla porta, tre, preferisce il tiro, dalla lunga, sei gol, per Inaba, 12 a 5, incredibile, davvero, non, guardalo, lascia, scampo, alla difesa salernitana, è un tiro, che si aspettava, sull'acqua, vedete com'è, esce basso, Vassallo, e invece un tiro a mezza altezza, proprio sopra il braccio, del portiere salernitano, eh sì, è vero, si aspettava, giocando una gran difesa, con una difesa, a M, ma una difesa M, che è pronta a ripartire, con davanti, i giocatori, che hanno grandi caratteristiche, come Metaroba, Inaba, Podgornik, Mladusic, davvero, lo stesso Razzi, sempre pronti a portare, il vantaggio, e ora qui, Oliva, prova, tenta ad uscire, ma Mladusic, commette fallo, e Bertoli, a guadagnare la superità numerica. Un'altra superità numerica, per Salerno, siamo a sei, Barroso, Luongo, dall'altra parte, Siani, lo scarico, Parrilli, tiro, che però non arriva in porta, si infrange, su un muro di braccia, della difesa ospite, in particolare, quella di Bego, e anche qui, Ettore, dal primo gol, in superità numerica, eh sì, poi, si è spenta la luce, sì, è vero, sulla panchina, o meglio, sui miei uomini, di Matteo Citro, neanche il time out, che ha speso il tecnico, Salernitano, è riuscito a riaccendere, proprio, la spina, Podgornik, una conclusione alta, sulla traversa, di Gabriele Vassallo, può riaprire il gioco, Salerno, che adesso, ha rallentato un po', se vogliamo, l'attacco di Trieste, ma continua a essere, poco pericoloso davanti, quindi, il gap non si riduce, anzi, sta sempre aumentando, Barroso, con Trieste, che adesso, si arrocca, di nuovo a zona, non batte, secondo Luca Castagnola, il fallo, e allora, è controfuga, di Andrea Razzi, uno contro zero, il velocissimo giocatore, di Firenze, si fa tutta la vasca, poi, però si fa, a girare, dal difensore, che a questo punto, è passato davanti, e il suo fallo, è semplice. Il discorso, che il tocco del braccio, non arriva, quando il giocatore, di Trieste, è davanti al Salernitano, ma quando è dietro, e quindi, non diventa più un'azione, diciamo, chiara da gol, e quindi, a mio avviso, qui, fa bene, Luca Castagnola, dare soltanto il fallo semplice. Sì, sì, confermo, concordo anche io, su questa tua visione, Razzi, forse, ha pagato un po' la fatica, di questo, unesimo scatto, Salerno, dall'altra parte, con Gian Maria Siani, che dà la palla a Bertoli, è un fallo semplice, quello che fischia Scappini, per Zeno Bertoli, giocano con il doppio centro, la conclusione, ancora di Barroso, con la deviazione, dall'altra parte, dell'altro numero 11, Bini, che lascia, la posizione, del meno 5, per andare a chiudere, l'angolo corto, è salito in cattedra, Trieste, oltre in fase realizzativa, come dicevo, nel secondo tempo, ma anche, ha veramente tirato fuori, è tirato su un muro, e gol di Bini, che fa l'azione perfetta, quindi, toglie una conclusione, agli avversari, che era molto, probabilmente, anche un gol, porta il contropiede, davanti, poi si ferma, ragiona, vede che è lui, l'uomo che può andare al tiro, una finta, guardate, guardando al centro, e poi, boom, la botta, sopra la testa, di Vassallo, adesso gioca, sul velluto, eh, Trieste. e adesso, è chiaro, davvero, la forbice è diventata, molto, 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 molto ampia, per, la squadra giuliana, che, con una grande solidità difensiva, riesce, poi, a trovare, anche in attacco, con, un buon margine di gol, adesso gioca, anche più, eh, in scioltezza, con Bini, che abbiamo visto, in quest'ultima azione, a difendere, sulla conclusione, salernitana, e poi andare a trovare, lui stesso, il gol, 10 a 0, parziale, terrificante, di Trieste, a Salerno, e dal 5 a 3, per Salerno, si è passati, al 13 a 5, per gli ospiti, Valentino Gallo, c'è la difesa, sempre a zona, di Trieste, giustamente, ha un enorme vantaggio, non vuole rischiare, di prendere espulsione, qua Salerno, però, riesce a trovare, il gol, ottimo, Barroso, in versione, assist man, non è la prima volta, il passaggio, è per Tomasic, lasciato completamente, solo, davanti al portiere, Oliva, qui, gol facile, per Tomasic, una palla, che era un po' ballerina, era quasi, erano già ripartiti, i giocatori di Trieste, ha provato Bini, prendendo anche un colpo, sul naso, per impedire, a Tomasic, il gol, che arriva, diciamo così, anche con un pizzico, di fortuna, si, qua, sono stati, fortunati, in altre cose, ne erano stati un po' meno, i giocatori della Raninantes, Salerno, che interrompono, dunque, questo score, lungo di giuno, non segnavano, dal fine del primo tempo, gol di Gallo, proprio, alla fine del, primo tempo di gioco, poi, quasi 16 minuti di digiuno, tanti, davvero tanti, tra il presente Gallozzi, che ha fatto, grandi sacrifici, in questa stagione, ora, 5 secondi, prova, un no look, Mladocic, ma la parata di Vassallo, mancano, 10 secondi, e tira, Gallo, forse un po' troppo presto, sì, perché, c'è ancora tempo, per organizzare un tiro, da parte di Trieste, che quasi trova il gol, perché, Mladocic, si era trovato, ancora una volta libero, dall'altra parte, ancora, fretta, da parte dei giocatori, di Salerno, con Sanchez, che si prende anche, un po', una riprimenda, di Matteo Citro, giustamente, 5 a 1 di parziale, di questo tempo, che fa, quindi, tra il, nel centro, nel cuore, del match, 10 a 1 di parziale, davvero, mettere una serissima ipoteca, sulla, sì, vittoria, di una partita, che invece, nel primo tempo, è stata, davvero, oltre che godibile, ma anche ricca di spunti, dove, Salerno, ha sbagliato pochissimo, e, ha messo in difficoltà, Trieste, che forse, ha fatto, venire fuori, la sua, maggiore anche caratura, dei propri giocatori, e anche, diciamo così, il fatto che, è una squadra, che ha cambiato davvero poco, lo dicevi tu, in fase di presentazione, soltanto l'innesto, di, Peppe Valentino, che è stato, tanti anni in Francia, dopo essere stato, appunto, in Italia, la Sport Management, che è andata ad arricchire, ad impreziosire, la rosa, del presidente Samer, che, già lo scorso anno, aveva dichiarato, prima dell'ottima, stagione, di, coach Bettini, con Trieste, di voler, riuscire, magari, nel giro di, di un quadriello, a portare, lo scudetto, lo scudetto, l'ha detto, si si, ha detto lo scudetto, proprio, a me piace, quando, si sbilanciano, i presidi, perché di solito, siamo nello sport, nessuno, che si sbilancia, che può pronunciare, questa parola, e invece, gli obiettivi, vanno posti, e vanno, poi, uno, se lo raggiunge bene, se non lo raggiunge, può succedere, ci sono anche gli avversari, tanto, Valerio Salvati, dell'ufficio stampa, della Finci, ricorda anche, c'è un, Genova, in Corsaro, a Roma, vince 10 a 8, con tripletta di Molina, devastante 5 a 0, nel terzo tempo, per gli ospiti, decisivo, dunque, per questo, risultato, inizia la partita, l'ultimo tempo, di, questo match, con, Salerno, che va a giocare, il pallone, data al centro, sul pressing, con Tomasic, che può, provare la conclusione, Paolo Oliva, para, questa, c'è stato, un colpo, si lamentano un po', i giocatori di Trieste, credo, Tomasic, a Burjubasic, Bini, Uriubasic, gioca una palla, non facile, per Verlic, che comunque, la riesce a domesticare, poi, la passaccia in aba, visto quanto è uscito, per prendere quel pallone, poi, lascia andare, il suo braccio, chiede scusa al compagno, perché sa anche lui, che è un po' forzato, ma era un'azione ormai, che aveva pochi, sbocchi, per Trieste, e quindi, Salerno, dall'altra parte, Valentino Gallo, il mancino siciliano, ritorna, a Zeno Bertoli, la sfera, posizione centrale, l'apertura per Barroso, che ha sempre di recchiare, da bene, un'altra palla, alla centro, dove però, gli arbitri lasciano giocare, perché, Tomasic, invece che andare verso il pallone, va indietro, non dà la dimostrazione di volerlo giocare, assolutamente, cercare di guadagnarsi, l'espulsione in Cina, diciamo, di mestiere, e invece, andando in avanti, probabilmente, si evidenzierebbe, la trattenuta del, l'avversario, Mladocic, stanco, va a tirare in diagonale, e para bene, Vassallo, è un ultimo tempo, con tanta stanchezza, le squadre sono già allungate, due tempi hanno, davvero, macinato, non poteva essere diversamente, vi verrebbero a dire, no? l'espulsione di Giacomo Bini, per la superiorità, di Salerno, ormai è un dato che, interessa, fin poco, la settima, l'attacco di, Podgornic, è falloso, fallo grave, è espulso anche lui, è andato a caricare, con troppa vehemenza, Barroso, che riceveva il pallone, qua, Barroso, ancora più spazio, un grande stoccatore, come lui, che poi dà un'occhiattaccia, proprio, verso il, giocatore che, lo aveva colpito in precedenza, lo aveva colpito in precedenza, quello rivediamo, il tiro sopra la testa, perché cambia il braccio, in Abba, dopo aver tirato fuori, il destro, lo mette in acqua, per alzare il sinistro, in quel momento, giocatore di esperienza nazionale iberico, lui che sarà probabilmente, il sostituto, quando, forse, non ce la farà più, ma al momento, ce la fa ancora, di Felipe Perrone, è uno giocatore, davvero che, penso che ogni tecnico, con, vorrebbe avere, il proprio roster, soprattutto, quando è in condizione, e ha dimostrato di esserlo, al mondiale, ai noi per noi, chiedo scusa, il gioco di parole, per la finale, purtroppo persa, dal Sandro Campania, dal Settebello, soltanto ai rigori. Una bellissima partita, una, stagione, bellissima, quella anche per le nazionali, guardate in Abba, qui l'assist al centro, guadagna l'espulsione, di Bertoli, Ivan Bego al centro, si lamentano, i panchinari, di Salerno, per l'interpretazione, arbitrale, al loro giudizio, troppo generosa, per Trieste, con Siani, che mette il braccio, e va a chiudere, la conclusione, allora, ci sarà tra poco, il rientro dell'espulso, in Abba, infatti, lo chiamano a gran voce, eccolo qui, si torna in parità, in Abba, tira un'altra sassata, addosso, a Vassallo, che quasi si ripara, più che parare, mette la palla, ai due metri, ancora possesso per, Trieste, più che far gol, qui in Abba, voleva riprendere, nuovamente, i 20 secondi, rimanere in pressione, il tempo, è a favore, dei Giuliani, ancora in Abba, in controllo, del match, Beppe Valentino, in Abba, va al tiro, sull'attacco, di Barroso, che si prende, un giallo, per simulazione, bravissimo, è proprio così, perché in Abba, appena ha visto partire, Barroso, subito ha alzato, entrambe le braccia, e quindi, qui è evidente, la simulazione, guardiamo il giallo, per la squadra, superioreità numerica, va fuori Valentino Gallo, Trieste, non fa altro che, sfruttare gli errori, e la fretta di Salerno, in Abba ancora, l'assist, lo scarico, il gol, bellissimo, questo dialogo, tra i tre esterni, di Trieste, la palla arriva a mezza roba, attraverso un assist di Mladocic, ha iniziato l'azione, in Abba, gol in superioreità numerica. Nel triangolo di sinistra, c'è la superioreità numerica, lo rivediamo, tre giocatori, con la calottina scura, e due con quella bianca, quindi lasciano cadere, pian piano, uno a uno, andando appunto a chiudere, i giocatori, che erano pronti, e reattivi, per andare a realizzare, con in Abba, a servire Mladocic, una bella finta anche la sua, appena sente il giocatore, arrivare sulla spalla, serve Scodella, la sfera, a mezza roba, che realizza, il quattordicesimo gol, di Trieste. Palla recuperata, in fase difensiva, da Buljubasic, quindi in Abba, con il pallone, porta avanti, i giuliani. Mladocic, con la calottina numero 12, ovviamente adesso, non hanno nessuna fretta, Rai Petronio, c'è Beppe Valentino, che è andato a buttarsi dentro, come secondo Boa, qui fallo in attacco, per la spinta, di Buljubasic, col braccio sinistro, se l'ha liberato bene, poi però, ha spinto, quel poco di troppo, tanto non gli serviva più, aveva impugnato il pallone. Secondo assist di Nabba, con questa palla, diciamo, accompagnata, lenta, ma di difficile lettura, di solito la palla al centro, non si dà mai lenta, però, per come la dà lui, come la dà lui, sì, può permettersi, è andato ad attaccare, Zeno Bertoli, che ha scaricato molto bene a Barroso, che qui, scarica il suo braccio, e Salerno riduce un po' il gap, 14 a 8, segna ancora una volta, lo Spagnolo, il suo terzo gol, in questo match. Lo rivediamo con Oliva, che si assume un po' la responsabilità, eh sì, si lascia solo le due braccia, lo rivediamo meglio anche da qui, invece è probabilmente di notarle una, andare incontro al pallone. Anche i due portieri, appunto, dalle loro movenze, si capisce quando, loro stessi, si accusano dell'errore, magari effettuato. Beh, qui era abbastanza, lampante, tante volte accusano invece un difensore, che non ha coperto il braccio, lo vediamo, che non ha alzato il braccio giusto, quelli più bravi, ammettono, il proprio errore, invece che scaricarlo. Lo faceva anche Stefano, e lo fa Stefano Tempesti, sdraiandosi sull'acqua, Stefano Tempesti, un altro record per lui, di 30 stagioni in Serie A1. Saluto carissimo a Stefano, complimenti ovviamente, per un giocatore eterno, qual è Stefano. Buljubasic, che con sufficienza, ha visto il buco, l'ha messa lì, ma quasi, un tiro telefonato, ha trovato, il braccio del portiere, ma non abbastanza, per impedire a questa palla, di superare, la linea immaginaria di porta, 15-8, per Trieste, rivediamo, Buljubasic, gol del croato, anche lui si scrive, nel tabellino. Un tiro sembrava, quasi non convinto, di far gol, forse anche, questa circostanza, ha ingannato, lo stesso Vassallo. Sì, era così sicuro, di fare gol, che ha tirato piano, sembrava visto da fuori, però poi il portiere la tocca, quindi vuol dire che, stava. Palla non arriva al centro, che aveva guadagnato una buona posizione, arriva sullo scavalcamento, e c'è la trattenuta, e quindi, Castagnola, fischia il fallo grave, a Buljubasic, che va nel pozzetto, Salerno guadagna un'altra superiorità numerica, Luongo, Barroso, Parrilli, poi Siani, di nuovo per Luongo, lascia andare il suo braccio, tira a rimbalzo, che si ferma sul palo, alla destra di Oliva, recupera il pallone, Mladocic lo riporta avanti, attenzione, ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco, mezza roba con Petronio, sulla fascia destra, al centro sta andando Beppe Valentino, movimento in entrata di Mladocic, spada giocata perfettamente a Beppe Valentino, che guadagna l'espulsione, qua, tutto fatto bene da Trieste, sta giocando bene, ovviamente, è una partita molto facile a questo punto, con Salerno abbastanza demoralizzata, guadagna un'altra superiorità, Trieste, ha giocato molto bene finora, prova ancora quel passaggio sul secondo palo, dove c'era Beppe Valentino, ancora una palla che non gli arriva, per un altro intervento difensivo, qui di Parrilli, in questo caso, ha rischiato un po', però ha riuscito a prendere il pallone. Trieste che sta cercando anche le giocate, le giocate forse un po' anche spettacolari, con passaggio un po' forzato di Michele Mezzarobba, che deve servire il difensore Valentino, che aveva guadagnato la sua età numerica, ora un tiro abbastanza schiacciato sui due metri. Siani ha provato ancora una volta, hanno riprovato quello schema che una volta era riuscito, per l'attraversamento davanti a Siani, per aprirgli la strada, però la difesa di Trieste ha trovato nettamente le contromisure, ultima azione offensiva per Trieste, infatti Ray Petronio con tutta calma, fa capire anche i compagni con il suo atteggiamento, che non si forza più niente, Inaba è rimasto indietro in marcatura, va al tiro Beppe Valentino dalla lunghissima distanza, ci sono sei secondi ancora per Salerno, con Gabriele Vassallo che tiene il pallone, perché ormai la partita è terminata, è una partita che termina con il risultato di 15-8 per gli ospiti, è stata una partita molto viva e vivace nel primo tempo, poi dopo Salerno ha perso un po' quel appeal che aveva avuto iniziale, davvero ottimo alla partita, e piano piano è seto in cattedra la formazione giuliana, che ha fatto pesare il suo valore tecnico e tattico in maniera letale. Sì, concordo con te, con un primo tempo davvero molto interessante per la squadra di Matteo Citro, che ha iniziato con un ottimo piglio, dove mettendo in difficoltà, sotto l'aspetto proprio natatorio, ma anche realizzativo, con delle buone giocate, buone invenzioni, ma anche solidità difensiva, riuscendo a trovare il break, proprio nella parte finale del primo tempo, per 5-3, poi, come se avessero un po' staccato la spina, spento la luce, nella ricerca, appunto, di mantenere questo vantaggio, un parziale di 10-0, è diventato poi 10-1, tra il, nei due tempi, quindi nei tempi centrali del match, che hanno segnato la partita, nel quarto tempo, poi, un parziale di 2-2, ma la partita, direi che, era già abbondantemente finita, era...